Le abruzzesi del girone G sono quelle che al momento godono di migliore salute. L'Aquila e Avezzano proseguono il loro cammino incontrando squadre sulla carta tutt'altro che irresistibili. Per l'Aquila match Casanigo con il Città di Castello, squadra in posizione da retrocessione diretta. Dopo la sofferta vittoria di Ranusei si sono sopite un po' di polemiche. Il tecnico Morgia recupera Malus, Brenci e soprattutto Minincleri. Quest'ultimo è ancora più indispensabile, visti i forfei di Bonvissuto e Peluso e la squalifica di Russo. Anche se l'Aquila può giovarsi dell'esplosione di Noman, i tre punti sono d'obbligo. L'Avezzano è in serie aperta di tre vittorie e cerca il poker in casa del latte dolce Sassari che è invischiata nella lotta per evitare i play-out. I marsicani vogliono anche vendicare la cocente sconfitta a domicilio della gara d'andata. In panchina non ci sarà il tecnico Pino Tortora, fermato per una giornata dopo l'espulsione di domenica scorsa. Avezzano che fa parlare di sé molto anche fuori dal campo con le esternazioni del patron Gianni Paris che in settimana, deluso dalle poche presenze allo stadio, ha dichiarato di essere pronto a cedere alla società ed ha anche postato sulla pagina Facebook i rendiconti finanziari delle ultime stagioni sportive invitando eventuali creditori della società, se ve ne sono, a rivendicare la somma dovuta. Nel girone F la gara di cartello è Campobasso-Vastese, vigilia turbata dalla decisione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha limitato a soli 50 i biglietti per la tifoseria della Vastese che per tutta risposta, a mo' di protesta, diserterà la trasferta morisana. Per il neotecnico Massimiliano Favo sarà gara da ex, visto che lo scorso anno, subentrando a Capellacci, prese i lupi nei bassi fondi della classifica trascinandoli fino alla finale play-off persa a Fano. La sua esperienza è iniziata male, col tonfo interno col Matelica e la Vastese ha bisogno di punti per marciare verso i play-off. Sta meglio il Campobasso che al momento si sta aggiovando della cura del neo allenatore Silva, scontro salvezza per il Pineto che ha dimenticato il K.O. di Agnone con il buon punto contro la San Maurese. Ma il match interno col Castelfidardo va monetizzato con i tre punti che sarebbero utili sia per uscire dalla zona play-out sia per dare il potenziale colpo di grazia ad un avversario in difficoltà. Pineto che aspetta un aiuto dal San Nicolò impegnato sul campo del Romagna Centro. Nel nuovo anno la squadra di Epifani non ancora ingranato ma dovrà farlo se vorrà guadagnare una posizione play-off. Privilegiata.